Ciao a tutti, mi chiamo Carlo Amatetti, sono l'editore di Sagoma. Come potete forse intuire dalle figure che mi circondano, la Casa Editrice si occupa in particolar modo di storie della comicità e della satira e narrativa umanistica. Ma non è di questo che vogliamo parlare qui oggi, vogliamo parlare di Freedomland, un'iniziativa che abbiamo promosso appunto noi della Casa Editrice per varare anche qui in Brianza un festival della cultura degno di questo nome. Saranno due giorni, anzi due giorni è qualcosa, nel senso che si inizierà con uno spettacolo il venerdì sera e poi ci sarà sabato e domenica dedicato all'editoria indipendente, ci sarà un'area espositiva e tutto attorno si celebrerà la cultura, l'editoria e lo spettacolo in tutte le sue forme, quindi ci saranno presentazioni libri, ci saranno incontri, seminari, laboratori, monologhi, spettacoli. Ci sono già le conferme di nomi molto importanti che vanno da Davide Riondino ad Antonio Rezza, a Giorgio Montanini, Stefano Disegni e molti altri. L'iniziativa dipende solo dall'autofinanziamento e quindi chiediamo veramente a tutti quelli che vogliono che anche la Brianza abbia un proprio momento di attenzione verso il mondo del libro e della cultura, ad un certo livello, contribuiscono per come possono, perché questa manifestazione si possa celebrare al massimo delle proprie potenzialità. Io vi ringrazio della vostra attenzione e spero di vedervi tutti a Freedomland, a V-mercate, dal 30 giugno al 2 di luglio, anche grazie al vostro contributo. Grazie mille.